Che ieri uno dei principali servitori della politica atlantista negli Stati Uniti d'America ha dichiarato che bisogna mettere in piedi un nuovo piano Marshall e cacciare fuori dei soldi per la decarbonizzazione, oggi la BMW gli risponde con un calcio di rigore a se stessa a portavolta dicendo soldi dove? Ho dei problemi sui veicoli che vendo, che ne devo richiamare un milione e mezzo, titolo che crolla in borsa dopo il profit warning. Quindi non è bastato che il presidente di Toyota un anno e mezzo fa dicesse forse non avete capito dove andremo a sbattere, non è bastato che Ford abbia detto mi fermo qua perché io veramente spendo dei soldi orribili, non è bastato che girassero in rete oltre alle stronzate senza l'autotune di Fedez anche i vecchi video di Sergio Marchionne che ben prima di lasciare questo strano mondo diceva che l'elettrico sarebbe stato un bagno di sangue totale perché produrre auto elettriche sarebbe stata una perdita senza fine e senza un tempo da stabilire prima di rientrare negli investimenti, poi facciamo i sofisticati con le aziende che investono nell'intelligenza artificiale e ma chissà quando rivedranno i loro soldi e compriamo le Stellantis lamentandoci poi degli stop quando sappiamo perfettamente che sono aziende destinate, io mi auguro di no, non all'estinzione ma un ridimensionamento epocale, le auto hanno sostituito i cavalli, i monopattini sostituiscono le auto, il ciao è stato sostituito dai motorini da cross, poi dalle KTM, poi dalle super sportive, poi dagli scooter, adesso la gente compra ancora per poco le biciclette elettriche, il mondo cambia e siccome i politici questo mondo che cambia non lo sanno capire, tocca spiegarlo a sto poro Cristo che è uno come tutti voi, come funziona il mondo, decarbonizzazione, corsa agli armamenti, innovazione tecnologica industriale, l'unica corsa che ho visto oggi è stata, vi do le cifre, perché questa è una roba che probabilmente è stata alimentata saggiamente anche da una serie di voi, grande domanda sul BTP a 30 anni, nel momento in cui stamattina è uscita la produzione industriale italiana meno 0,9% mese, attese erano meno 0,2%, meno 3% su base annua, gli investitori istituzionali non per i 30 anni che uscirà con una quotazione in termini di rendimento di 4,35% hanno piazzato 130 miliardi di ordini a fronte di 6 miliardi emessi. Do cazzo vogliamo andare a parare?